Ciao ragazzi, buonasera Buonasera Speriamo che l'Inter ci faccia un bel regalo stasera Dai, che dici Ali, ce lo meritiamo? Guarda, lo spero vivamente La formazione dell'Inter è la seguente Ovviamente scendiamo in campo con lo stesso modulo Difesa, ritorna il vecchio Buonandanovic in porta Difesa 3, D'Ambrosio, De Vrij a Cervi Dentro campo, Danfries, Mkhitaryan, Brozovic, Cialanoglu, Di Marco Attacco a 2, Lautaro, Dzeko Dai, che possa portare fortuna Cominciata il Verona-Inter Attenzione al Verona, attenzione, occhio Andanovic ha parato Dentro, colpo di testa, ha parato Occasioni, Dzeko Prima occasione al minuto 27 Cross di Cialanoglu, colpo di testa di Dzeko Parata di Montipò Dentro, colpo di testa Come ha fatto a non segnare? Ma non è entrata sta palla? No, non è entrata, non ho capito Come ha fatto a non segnare? Colpo di testa di D'Ambrosio Ancora Montipò, eccola Non è entrata, poi non ho capito in che modo Ma che cazzo ha preso? Non ci credo, dai, oh cazzo Montipò oggi diventa Superman Bene, questa è la prima di una lunga serie di paratone Dentro, colpo No, non ci credo Non ci credo, De Vrij Mi sembra che D'Ambrosio ha murato Il gol di De Vrij Cioè, era gol di De Vrij D'Ambrosio l'ha murato Ma tutto corto Palla per Dima Dima la mette mali Gol! Autogol! Autogol cavoloso! Polo! Polo, 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 polo Autogol, 1-0 Attenzione! Abbiamo un bucato autogol di Gajk Autogol di Gajk Bene così ragazzi, grazie Gajk Grazie 1-0 inter Al ventesimo Perché se aspettiamo i nostri Ragazzi segniamo dopo domani Cialanagli! Mamma che cazzo! Attenzione! È un peggioro incredibile Mamma che golasso dal nulla Akan Cialanoglu Mamma mia! Cazzo! Ma Marotta non l'ha visto ragazzi Avvisate che Marotta non l'ha visto Marotta, ausilio Zanetti è rimasto pietrificato Marotta così rai Mamma mia che gol di Akan Mamma mia! Mamma mia! Da fermo! Palla che cazzo è sotto l'incrocio Mamma mia Akan! Mamma mia! Mamma mia Akan! Che gol che segni! Palla per Gajk 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 Lo smadonnato fino a due minuti fa Vabbè Bravo così Freddezza Sì ma al Verona Ragazzi 3-0 Attenzione Mkhitaryan Mkhitaryan Tiro Brutto tiro ragazzi La spedita in convento Attenzione 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 Lautaro davanti al portiere Lautaro Martini Esco qua Esco qua Esco qua Di ballonetto 4-0 Inter Incredibile 4-0 Qua finisce in goleada Va bene abbiamo vinto Adesso facciamo entrare tutte le riserve L'errore clamoroso Sì vabbè Il Verona ha una difesa Che gli scapoli ammogliati In confronto Sono l'Inter di Herrera Attenzione Andiamo per il 5 Andiamo per il 5 Acerbi Acerbi Per Gajk 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 E sono 5 In mezzo Lautaro 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 Tiro Gol 6-0 Lautaro Martini Ed è finita Col gol del Toro Si chiude la partita Classifica Giornata Ragazzi Inter Quarta 60 Dietro la Juventus Con 63 Ciao ragazzi Alla prossima Ciao raga Ciao 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 Ciao